a destra leo a destra salta su di lì a destra leo un pezzettino qua è passare via col dietro guarda no ma ci passi su guarda lui come la fa anche l'ultima volta fatto così solo che non c'era qua nessuno è volato giù sei sicuro? guarda che di qua qualcuno è già volato giù vai la girare fra vai la in fondo a girare vai vai dritto dritto vai ancora vai ancora vai la girare lui si mette qui non vai più lì oh bravo non fermarti eh vai 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 devi dargli prima di dove c'è il taglio se no al dietro ti arriva di tu stai accelerando ti scivola giù ancora quindi prima acceleri su oh d'inerzia un po' durezza eh minchia poi ti hanno smolato un pull e mei eh devi fargli prendere un po' di velocità devi prendere la velocità prima no